calcio mercato il napoli di conte la juventus di tiago motta il milan di fonseca il cambio degli allenatori in italia la situazione economica dell'inter la salernitana sono questi gli argomenti che affronteremo nel prossimo video con il giornalista angelo gasparro a tutto tondo angelo noi parleremo certo 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 avremo modo di aggiornarci insomma il mercato è in fieri quindi a breve novità cessioni acquisti seguiteci seguiteci proprio subito dopo questo spoiler che rappresenta naturalmente un modo un'anteprima per dirvi quali saranno gli argomenti e poi durante il corso dell'estate e anche nel campionato angelo tornerà sempre qui a commentare e vi ricordo che è un competentone di calcio e a più tardi grazie sergio buonasera a tutti a più tardi